Sulla delicata questione della direttiva Bolkestein, il Consiglio di Stato ha confermato la scadenza delle concessioni demaniali per le spiagge al 31 dicembre dello scorso anno, annullando così le proroghe generalizzate dalle concessioni demaniali agli stabilimenti e obbligando le amministrazioni comunali a procedere con i bandi di gara. Un processo questo che rappresenta una fase transitoria e su cui il lancio Abruzzo ora chiede chiarezza per l'avvio dei bandi per non danneggiare gli operatori interessati da questa fase. Per questo motivo l'Anci sta provando a dialogare con il governo per posticipare il tutto a fine 2024. Stiamo lavorando assumendoci la giusta responsabilità e l'onere di tutelare tutti i nostri comuni costieri su un interesse che poi ovviamente riguarda prevalentemente i comuni costieri ma riguarda tutta la nostra regione. Ecco perché con il coordinamento del mio delegato Enrico Di Giuseppe Antonio, l'incontro che abbiamo avuto con la regione e con i comuni dove Anci ha svolto appunto un ruolo di coordinamento, ha portato la costituzione di questo tavolo tecnico che ci consentirà di gestire questa fase così incerta, insomma dopo la scadenza del 31 dicembre 2023 e in attesa dei decreti attuativi della legge sulla concorrenza. Quindi siamo in una fase transitoria, il governo deve accelerare i tempi ma deve soprattutto confrontarsi con i comuni, con i territori proprio per evitare che l'attuazione della normativa europea poi applicata a livello nazionale determini un impatto negativo sulle nostre realtà. Per il presidente del Lancio Abruzzo d'Alberto si devono costruire le condizioni idonee per avviare il processo ma anche permettere che questa stagione estiva possa svolgersi al meglio, almeno attraverso provvedimenti ponte per i prossimi mesi. Questo per affrontare poi definitivamente la questione a fine stagione balneare. C'è un lavoro di coordinamento anche di Anci nazionale dove le Anci tagionali si muovono ovviamente in piena linea. Questo è ovviamente un obiettivo che consentirebbe di gestire questa fase transitoria. È chiaro che dobbiamo arrivare ad un punto di chiarezza definitivo che metta appunto tutti i territori e le comunità in condizione di poter affrontare questa difficoltà e ovviamente anche i concessionari di poter gestire questa fase per non mettere a repentaglio le stagioni estive ma soprattutto tante attività economiche che nel territorio hanno operato operano e vogliono operare per il bene della comunità.